Rosario Bellavia si è impiccato con il laccio della tuta. Nelle pomeriggio è stata disposta l'autopsia dalla magistratura. Il suicidio annunciato con una lettera. Rosario Bellavia è stato ristretto e costretto in carcere dalla 26 giugno 2012, detenuto in attesa di giudizio. Agente di polizia penitenziaria sotto processo perché avrebbe tradito. Lui sarebbe stato una talpa dal carcere a favore della famiglia di Cosa Nostra di Siculiana e avrebbe rivelato anche la presenza di microspie. Il pomeriggio di lunedì scorso, 23 dicembre, ha incontrato i familiari e dopo il colloquio avrebbe atteso il ricambio degli indumenti puliti. L'indomani mattina, martedì 24 dicembre, vigilia di Natale, il suo difensore, l'avvocato Salvatore Pennica, ha viaggiato da Agrigento a Caltanissetta. Rosario Bellavia, 50 anni di età, è stato scoperto cadavere. Poi si è appreso ciò che è stato subito ipotizzato e temuto. Bellavia si è impiccato in eccella. Un suicidio e i suoi colleghi dall'altra parte delle sbarre. Nulla hanno potuto. Il soccorso delle guardie carcerarie è stato inutile. Rosario Bellavia si è stretto attorno alla collo il laccio della tuta e non è sfuggito alla morte annunciata. Non una volta, ma più volte, il poliziotto penitenziario Siculianese ha scritto lettere alla famiglia tra sconforto e disperazione. E l'ultimo messaggio sarebbe stato funesto e funereo perché Bellavia non avrebbe più nascosto dietro mezzi termini l'intenzione suicida. Ecco perché l'avvocato Pennica ha trasmesso la lettera all'autorità giudiziaria, forse confidando che sarebbero stati assunti i provvedimenti, che si intervenisse sull'assistenza penitenziaria, che si adottassero i rimedi per scongiurare quanto accaduto. E invece no, dal pomeriggio di lunedì all'alba di martedì è maturata la morte. È stata disposta l'autopsia. Rosario Bellavia è stato tra i dieci imputati che hanno scelto di essere giudicati in ordinario al processo Nuova Cupola. E il 21 novembre scorso per lui, così come per gli altri nove, sono stati sospesi i termini di custodia cautelare in carcere. Non fuori dalla galera, anche oltre il limite di legge consentito, perché sospesso in attesa della sentenza di primo grado. Rosario Bellavia ha ricercato e trovato uno stratagemma alternativo.